Amen, grazie pastore, grazie molto per l'invito. Sono molto onorato di trovarmi in questo momento per poter condividere la parola di Dio. Sono il fratello pastore Felix Banold, sono anche medico e vorrei condividere ciò che è più importante di tutta la nostra vita, tutto ciò che possiamo fare, tutto ciò che vogliamo fare e perciò il discorso di oggi, il titolo come avete letto è Ritorno all'essenziale. Se tu sei dietro alle quinte, se tu mi stai guardando in qualunque canale sei, ripeti dopo di me Ritorno all'essenziale, Ritorno all'essenziale, perché ci sono cose importanti, cose molto importanti, cose poche importanti. Nella parola di Dio troviamo di tutto, troviamo di tutto, ci sono 66 libri, c'è tanto che possiamo condividere, tanti studi biblici sul quale possiamo anche dare una certa importanza, perché è sempre parola di Dio, ma c'è il succo, c'è il fondamento, c'è l'essenziale e anche nella dottrina del fondamento che possiamo leggere in Ebrei 6 c'è nella dottrina del fondamento il fondamento del fondamento. E quindi oggi vogliamo partire proprio per avere un accenno su questo ritorno all'essenziale. Molte volte, giustamente, abbiamo imparato come Dio benedisce, come Dio fa molte cose, come Dio agisce, e è una cosa meravigliosa. E a volte questa nostra volontà e questo nostro desiderio di vedere molte cose qualche volta può addombrare, può metterci una nuvola su ciò che è il succo della cosa. E perciò senza disprezzare ciò che è il di più, vogliamo parlare oggi del fondamento, dell'essenziale della nostra vita cristiana. A me il fratello poco fa ha parlato dei segni, è una cosa che a me piace molto, i segni che accompagnano la parola di Dio, perché Dio conferma i segni, la parola di Dio con dei segni, dei prodigi, dei miracoli, delle guarigioni. Non devono essere qualcosa di extra, qualcosa di un optional, oppure un ban soltanto, perché è proprio parte del messaggio. Per questo, alla fine di questo ritorno all'essenziale, vogliamo vedere qualche segno e qualche miracolo, perché pregherò per ogni bisogno, per qualunque desiderio che tu possa avere di essere guarito. Guarita dove ti trovi, anche se ti trovi in un letto ammalato e non ti vedo, Dio ti vede e tu farai e tu riceverai. Ma intanto torniamo all'essenziale. Alleluia. Vogliamo leggere un versetto per cominciare dalla parola di Dio? Andiamo nel libro, nell'epistola, l'epistola di Pietro, ok? La prima epistola di Pietro. Prima Pietro, il capitolo 2, leggiamo i cinque primi versetti. E questo ci accompagna a capire un po' il messaggio. È scritto benissimo. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza. Se davvero avete gustato che il Signore è buono. Accostandovi a lui, pietra vivente, meravigliosa parola, pietra vivente. E vorrei dire a qualcuno, una parentesi, in questo passaggio, che c'è una pietra vivente. Pietro, Pietro, pure essendo Pietro, non è la pietra vivente. Pietra vivente è Gesù. E anche noi siamo delle pietrucce viventi. Quindi Gesù, quando si riferiva a Pietro, ha solo detto tu sei uno, una, una delle pietrucce, uno degli elementi con cui io edificherò la mia chiesa. Alleluia, meravigliosa parola. Possiamo continuare a leggere. Rifiutata, Gesù quindi è la pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e rezziosa. Alleluia. Come voi, anche voi, come pietra vivente, siete edificati, ecco giustamente la parola, per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, permesso di Gesù Cristo. Amen, amen, alleluia. Stiamo parlando di ritorno all'essenziale, di ciò che conta, di ciò che è il succo, di ciò che è la crema delle creme della vita cristiana, di ciò che è il motivo, il leg motive, di ciò che è la parte più intima della nostra vita cristiana. E' la comunione con Dio. Alleluia. E poi, giustamente, facciamo parte della Chiesa. Ma ancora prima, desiderate il latte puro della parola di Dio. Perché c'è anche un latte che non è puro? Ah sì. C'è anche un latte, abbiamo il latte intero, il latte parzialmente scremato, il latte scremato, il latte pastorizzato, e poi non sono, non è il mio campo, ma almeno lo so di queste cose. Ma c'è il latte puro. E quindi, della parola di Dio, c'è una componente pura, c'è una componente fondamentale, che noi non dobbiamo mai dimenticare. Dopo che abbiamo ricevuto tutte le benedizioni, dopo che abbiamo ricevuto tutti i doni dello Spirito Santo, abbiamo detto che pregheremo per ogni guarigione. Se tu sei ammalato, oppure ti senti ammalato, perché è diverso, ti puoi sentire ammalato, ma non sei ammalato. Perché nello Spirito tu stai bene. Perché tu, dallo Spirito, puoi fare stare bene il tuo corpo. Questo è un altro segnamento. Alleluia. E quindi, desiderate l'essenziale della parola di Dio. Significa essere focalizzato sull'obiettivo. Come un soldato che va in missione, ha un obiettivo, deve mirare a un punto, ci devi andare. Ha un foglio di missione. Non dimenticare perché, il fratello l'ha detto, mi è piaciuto questo acceno. Perché tu sei in questa città? Perché Dio ti ha messo in questa famiglia? Perché proprio tu ti trovi in questo ambiente di lavoro? Non dimenticare che sei lì perché Dio ti ha chiamato. In una santa vocazione. Alleluia. Quindi evitare delle distrazioni. Perché in questo famoso libro, The Pilgrim's Progress, Il viaggio del peregrino, che era stato famoso, molti, molti tempi fa, credo due secoli fa, era veramente il secondo più letto dopo la Bibbia. Vediamo come ci può essere della distrazione, ci possono essere dei momenti in cui tu sei chiamato a fare qualcosa per Dio, ma poi ci sono delle cosette attorno, cose piacevoli, ma a volte cose che Dio non rifiuta fondamentalmente, ma che ti possono distrarre dal punto, che possano far togliere il tuo sguardo. Noi non siamo delle mosche che riescono a vedere anche di dietro. Credo che te ne sei reso conto, che noi non riusciamo a vedere davanti e dietro o di lato nello stesso momento. Allora dobbiamo focalizzare la nostra attenzione su ciò che conta, sull'essenziale. E poi ogni cosa ci sarà sopraggiunto, perché deponi i tuoi pesi al Signore e Lui ti aggiungerà ogni cosa. E in questo tutto c'è tutto. Alleluia. Nulla sarà perso, perché Cristo, Gesù, tiene ai dettagli. Ricordati della moltiplicazione dei panni e dei pesci. Dopo che c'è stata questa grande raccolta, Gesù ha detto che nulla si perda, nulla si deve perdere, anche se c'era una grande raccolta, perché ogni dettaglio conta. Perciò Dio tiene la tua benedizione, pur essendo un dettaglio, anche se fosse un dettaglio. Dio ci tiene. Quindi stiamo parlando dell'essenziale, ma non stiamo disprezzando il resto. Alleluia. E quindi dobbiamo sapere recuperare anche, dopo che siamo caduti, questo messaggio vale anche se tu sei caduto, se tu hai l'impressione che la tua vita spirituale non scorre più come l'acqua. C'è qualcosa che ha un po' rincuginito la tua vita. Ti senti o ti senti appesantita, appesantito. E' come se il peccato ha trovato modo di nascondersi, nascondersi negli angoli del tuo cuore, del tuo cuore. Perché il peccato vive, ok, ops, cosa ho detto? Sì, il peccato è vivente, è intelligente, si adatta, e magari ti ha frenato. E ti voglio dire oggi che se tu ritorni all'essenziale, su ciò che stiamo parlando, te ne sbarazzerai in un attimino, perché il fuoco, la focalizzazione è davanti a te. Alleluia. E quindi vogliamo, D'America, voglio prendere una dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Scusate, non è un'organizzazione cristiana, ma qualcosa che tutti seguiamo quando prendiamo dei famaci. Si parla delle raccomandazioni dei primi istanti della vita per un bambino che è nato. Ascoltiamo un po' alcuni elementi e capiremo la progressione di ciò che stiamo dicendo. Appena nasce un bambino, l'organizzazione più riconosciuta al mondo per la sanità, che è al di sopra di tutte le aziende, si può dire, sanitarie, dice questo. Prima elemento, assicurarsi che il bambino respira. Se ha assorbito un po' di liquido amniotico, può capitare, bisogna cercare di aspirarlo, perché questo lo sanno bene quello che fa nel campo, non vorrei togliervi il vostro mestiere, ma ecco la cosa conosciuta, perciò nulla di nascosto. Prima togliere, assicurarsi che il bambino respira, perciò il famoso colpetto del ginecologo, per farlo gridare. E quando noi non lo provochiamo, lo fa naturalmente il bambino. Il suo primo, la sua prima reazione è un pianto, è un pianto. In questo pianto c'è tutto, c'è la liberazione. Oh, finalmente sono uscito dalle acque. Ma è anche un respiro. Con questo pianto slega la sua capacità a respirare. E il secondo elemento immediatamente dopo è avviare l'allattamento. Non aspettare che il bambino sia pulito, ah no? Non fare qualcosa di particolare. Pulito, ok, certo si toglie il cordone umbilicale. Ancora prima, scusate, torniamo indietro. Retromaccia. Prima di questi due elementi si taglia il cordone umbilicale, perché giustamente non puoi vivere essendo legato al tuo passato. Alleluia. Non puoi vivere la tua vita spirituale essendo legato al tuo passato. Devi tagliare il cordone umbilicale. ciò che ti legava alla tua situazione di prima, per essere libero, libera, di esprimere la tua vita spirituale. Alleluia. Siamo parlando di ritorno all'essenziale. E quindi se ti sei trovato, trovato, frenato nella tua vita spirituale, bloccato da una situazione complicata, rifai lo stesso percorso della nascita del bambino. taglia il cordone umbilicale. Rimuovi ciò che ti lega al passato. Respira. E ciò, stiamo parlando di questo. E avvia l'allattamento. Ci torniamo fra poco. Gli altri tre elementi che seguono sono ciò che si chiama in inglese The Roaming Inn. The Roaming Inn è praticamente la condizione in cui il bambino deve entrare nella stanza dove c'è la mamma. Deve stabilire il contatto madre-figlio o madre-figlia. E cosa ti ricorda questo? Chiesa. Chiesa. Comunità. Perché nell'Apocalisse 12 vediamo la chiesa. Quello che è erroneamente riferito a Maria, ma non hanno là a che vedere, è la chiesa. Poi, l'altro punto è poi lavare il bambino. Dopo che tutto questo è stabilito, dopo che tutto è a posto, allora si prepara il bambino, si lo lava, ok? E poi si può vestire il bambino e il quinto elemento è dare la vitamina K. Ok, lasciamo perdere questi elementi, ma ne ritorneremo. Allora, parliamo di respirare. Parliamo del respiro. Il respiro è un contatto, è uno scambio. È uno scambio fra ciò che è fuori di te e che non vedi da ciò che è dentro. Ciò che è fuori e che non vedi, il mondo spirituale, chi abbiamo come riferimento nel mondo spirituale? È Dio. È precisamente lo Spirito Santo, perché la Bibbia dice abbiate comunione con lo Spirito Santo. Possiamo leggere in 2 Corinthians capitolo 13 versetto 13, mi piace ben questo passaggio in cui si parla di dei attributi della zianità. La grazia del Signore Gesù, Cristo, e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ripetiamo, la grazia del Signore Gesù, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. A Gesù si attribuisce la grazia, perché Gesù è venuto per stabilire un periodo di grazia. Gesù è proprio la grazia manifestata. Gesù è l'agnello di Dio. Gesù rappresenta quel montone o quel agnello, se vogliamo dire in questo termine, che era incastrato quando Abramo doveva uccidere suo figlio. Era come una grazia per Abramo, ma poi Dio ha dovuto adempiere facendo morire il proprio figlio. L'amore di Dio, quanto Dio amore? la Bibbia ce lo definisce come amore, Dio è amore, è un aggettivo che sta, che spetta a Dio. Non è che ha l'amore o manifesta l'amore come noi, Dio lo è, cioè quando tu dici l'amore agapeo, nella sua essenza pura, stai parlando di Dio. E questo anche le persone che non conoscono l'Evangelo direttamente come noi, ma che si avvicinano all'amore di Dio, Gesù le disse non si è lontano dal regno di Dio. Alleluia. E poi cosa? Che cosa spetta allo Spirito Santo? La comunione. E la comunione con lo Spirito Santo. Allo Spirito Santo è data, è dato l'attributo di comunione, dello scambio, cioè noi il respiro, il grido del bambino rappresenta la comunione con lo Spirito Santo. molte persone vogliono subito essere in contatto con tante persone, con la Chiesa, con fare mille cose e non hanno comunione. Non hanno comunione. Se io ti dicessi ieri cosa ti ha detto lo Spirito Santo, non deve essere qualcosa di straordinario, non deve essere un evento, non deve essere quando camminavo con lo Spirito Santo mi parlava. Ah no! Dovresti poter dire che ieri lo Spirito Santo mi ha detto questo, questo e questo. Se tu non sei in grado di dare una risposta chiara, concisa, precisa e vera perché non dire buddiche significa che non hai o hai poca comunione con lo Spirito Santo. Hai pochissima comunione perché se non ti parla significa che non trovi orecchie per poter parlare. Alleluia! Poi abbiamo parlato di avviare l'allattamento. Ancora prima di questo andiamo a leggere Efesimi capitolo 6 il versetto 18. Avere comunione con lo Spirito Santo ti darà la capacità di conoscere le cose di Dio. Allora è scritto pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito. Attenzione! Non con la tua carne ma per lo Spirito. Pregate per lo Spirito. E questo va al di là, al di sopra anche del solo parlare lingue che questo è vero per lo Spirito ma non è per forza nella comunione sempre ma per lo Spirito essere preso completamente dallo Spirito con ogni preghiera e supplica veliate a questo scopo. È uno scopo abbiamo parlato di uno scopo obiettivo poco fa è uno scopo con ogni perseveranza e non basta non finisce lì pregate per tutti i santi cioè dal momento in cui voi avete la capacità di pregare con lo Spirito Santo lui vi farà pregare per altre persone alcune persone quando si dice pregare cominciano a parlare dei loro problemi della mamma di qualche malattia che qualcuno della propria famiglia oppure loro stessi hanno dei loro problemi finanziari no la comunione con lo Spirito Santo ha più a che fare vedere con un'altezza maggiore non rimanere nelle tue cose le tue cose prega per i santi sì questo vale piuttosto meglio pregare per i santi questa comunione con Dio ti porterà a guardare oltre alla tua casa alla tua casetta oltre alle tue cosette ai tuoi bisogni fondamentali lui andrà oltre e ti presenterà dei veri bisogni i veri bisogni non solo quelli della televisione perché della televisione se tu mi dici pregate per tutti i santi è ovvio che tu vedremo tutti guerre terremoto sì quello lo sappiamo già ma ci sono bisogni che Dio rivela sì ci sono cose che lo Spirito Santo ti può rivelare che nessun altro lo saprà se non colui che è in comunione con lo Spirito Santo quella sorella lì che magari sta avendo pensieri di suicidio è lo Spirito Santo che te lo rivelerà quest'altro fratello che magari non sa come gestire la propria famiglia è in depressione lo Spirito Santo te lo rivelerà preghiamo per lo Spirito Santo preghiamo con lo Spirito Santo abbiamo comunione con lo Spirito Santo alleluia il primo grido dei bambini quando esci è la comunione la comunione con l'aria la comunione con il mondo invisibile la comunione con Dio lo sai che i bambini hanno comunione con Dio andiamo nel secondo punto parliamo di avviare l'allattamento abbiamo parlato dell'atto pure l'atto puro della parola di Dio leggendo Matteo 4 è questo versetto che credo che molti conosciamo da versetto 3 al versetto 4 c'è in teologia ciò che si dice spesso la legge della prima menzion menzion come si dice accenno di una parola ok la prima volta che una parola è menzionata nella Bibbia si può dire rivela il suo senso di base in questo Matteo 4 4 iniziamo dal versetto 3 la parola Remma viene per la prima volta in tutta la Bibbia evocata e lì possiamo capirla meglio nella sua essenza il tema è sempre il ritorno all'essenziale allora è scritto il tentatore avvicinandosi gli disse sta parlando con Gesù ti ne sei reso conto credo se tu sei figlio di Dio ordina che queste pietre attenzione torniamo alle pietre di prima ok e voglio che il diavolo questo faccio una parentesi ma non posso mancare lui vuole che diventiamo dei piani ok togliamo la parentesi quindi ordina a queste pietre di diventare pane il diavolo il tentatore si avvicina a Gesù e gli disse ordina di diventare pane queste pietre ma egli rispose sta scritto di com'è sta scritto ripeti ancora sta scritto più convinto sta scritto non di pane soltanto vivrà l'uomo o la donna ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio alleluia questo è la prima volta che la parola parola di Dio uguale remma di ogni parola remma noi non dobbiamo soltanto vivere di ciò che ti intrattiene e in questo dobbiamo dire che molte volte la chiesa non tutte le chiese ma bisogna comunque dirlo qualche volta intratteniamo le persone intratteniamo facciamo qualcosa per attirare delle attenzioni della carne la carnalità vogliamo come fanno i festival fuori oppure tutto ciò che il mondo fa i concerti non ho nulla che vede non ho nulla contro dei concerti cristiani attenzione ma qualche volta possiamo focalizzarci troppo su questo ma dobbiamo parlare dobbiamo dare la parola di Dio ok non ha detto logos qui ha detto remma anche lì attenzione non significa di mettersi a leggere la Bibbia come un papagallo non è neanche di che si tratta si tratta di remma rivelazione rivelazione il popolo perisce per mancanza di rivelazione alleluia è la parola detta al momento giusto la parola opportuna è quella parola che ti fa crescere è quella parola che ti dà vita è quella parola che ti fa avviare la crescita alleluia perché non dimentichiamoci che la lettera uccide ma lo spirito vivifica perché la parola remma è semplicemente il logos più spirito santo alleluia è che ha preso dal logos lo spirito santo e se lo è messo sopra e si è mescolato alleluia e non è solo più parola scritta è parola ma la parola di comunione con lo spirito santo che non si opporrà mai attenzione a quello che è scritto alleluia quindi qui stiamo parlando dell'importanza della parola di dio parola pura ritorno all'essenziale leggiamo anche prima timotio capitolo 4 dal versetto 4 al versetto 5 prima timotio 4 da 4 a 5 e sentiamo questo infatti tutto quello che dio ha creato è buono ok tutto che ha creato è buono e nulla è da respingere tutto è creato è buono questa è una parola veramente per qualcuno stasera il creato di dio è cose ma sono persone anche e se non sta parlando a qualcuno oggi che la tua suocera è buona lo capirai perché l'ho capito che sta parlando di te non respingere la persona che dio ha messo accanto a te sì anche se ti sembra pesante non respingere quindi se usate il corredimento di classe qui si tratta di cibo certamente andiamo avanti versetto 4 versetto 5 piuttosto perché è santificato dalla parola di dio e dalla preghiera qui è ciò di cui stiamo parlando stiamo parlando che tutto è santificato dalla parola di dio e dalla preghiera la parola di dio e la preghiera hanno il potere ascoltami bene la parola di dio e la preghiera hanno il potere di santificare tutto ripeto la parola di dio e la preghiera hanno il potere di santificare tutto se tutto ciò che è fuori di te vuoi essere santificato con questo mezzo quanto più te lo sarai santificato se ciò è un oggetto il cibo da mangiare qualcosa che tocchi con le tue mani viene santificato attenzione è ben scritto santificato viene santificato con la parola di dio e la preghiera quanto più te figlio di dio sarai santificato con la parola di dio e la preghiera stiamo parlando di ritorno all'essenziale la bibbia dice che quello che dio vuole è la vostra santificazione è la vostra santificazione e se qualcosa o qualche elemento può santificare se noi traduciamo anche questo versetto possiamo dire quello che dio vuole è che voi continuate ad essere santificati mediante la parola di dio e la preghiera alleluia la parola di dio può santificare la tua vita se non sei abituato a leggere la tanta metti pure una versione audio te l'ascolti si te l'ascolti di continuo noi consigliamo sempre un programma abbastanza fisso e serio che tu leggi che te la senti o non te la senti ah si leggi come vai a lavorare qualche volta non hai la voglia è vero non hai questa gioia immensa di lavorare non sei così preso dalla passione per lavorare ma devi lavorare e così anche con la comunione con dio anche quando la tua carne non sta dietro non segue ma tu sai che è questo ciò che devo fare fallo alleluia fallo senza aspettare noi siamo nati per crescere noi siamo nati per crescere dio non crea nulla destinato alla morte perché dio è la vita noi ci ciberemo dell'albero della vita figuriamoci se dio ci crea per rimanere nanni piccoli nella fede bimbi no dio ci ha creati affinché possiamo crescere creati spiritualmente parlo anche e quindi il latte della parola di dio puro comincia ad essere il latte poi dopo c'è il cibo solito ma oggi il discorso riguarda il latte ma non è che è livello uno no il latte non è che è un primo livello il latte è l'essenziale è diverso da livelli non è che tu sei a livello tre e ti sto riportando a livello uno no è che sei a livello uno due e tre e ti sto ricordando che c'è ancora in te il livello uno non so se hai capito la differenza il latte puro della parola di dio non è una tappa da superare non è una condizione da cui ci allontaniamo per crescere no è sempre al centro della nostra crescita funziona come dei cicoli come il nucleo della tela sapete c'è caldissimo lì dentro non andacci il nucleo della tela e poi ci sono dei strati degli strati degli strati ciò che è in più sono i livelli di crescita ma ciò che rimane è il latte puro è il fondamento è la comunione con lo spirito santo alleluia quindi questo discorso non è per i neofitti è per tutti e anche forse prima i pastori che a volte hanno occupazione sono preoccupati a fare le cose per dio ma a volte senza dio a volte senza il capo dobbiamo fare tutto ciò che dobbiamo fare con dio sempre con ciò che è fondamentale adesso ci mancano dieci minuti abbiamo promesso che pregheremo per ogni bisogno e ci stiamo avvicinando ci mancano due versetti da leggere e quelle persone che hanno bisogno di ricevere un miracolo comincia a scriverlo da qualche parte non mandatelo non importa scrivetelo scrivetelo perché deve essere serio non deve essere solo bisogno no no fanno un desiderio molte persone non sono guarite perché non vogliono essere guarite è strano dirlo perché non si danno di impegno è come se ok se dio vuole mi guarisce vabbè tanto è così che funziona quando vai in ospedale se tu vuoi vai in ospedale certo ma certo se tu non vuoi non ci vai e anche quando sei in ospedale se tu vuoi ti metti in fila e aspetti il tuo nome chiamato se tu non vuoi te ne torni a casa e anche quando quando ti stanno chiamando hai ancora tempo di scappare eppure rimani quindi desiderare essere guarito non è dare tutto a Dio la responsabilità di pensare che tu vuoi essere guarito chiamati a essere guarito alleluia alleluia siamo già alla fine credo che no non si è alla fine Felix Felix un attimo un attimo ora che preghiamo fatti guidare dallo Spirito Santo di parlare delle parti del corpo che devono essere guarite mi voglio spiegare non soltanto tutto il corpo Signore guarisci il corpo tu che sei dottore prendi le parti del corpo dichiarandole al Signore perché chi è a casa che soffre di quello si aggancia e lo Spirito Santo opera nella 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 persona che sente dire ciò che lei sta soffrendo ciò che lui sta soffrendo perché nel momento per esempio no io non ci vedo ho gli occhiali no quando tu dici per la vista io subito mi attivo perché voglio buttare via gli occhiali e allora mi concentro per ricevere la guarigione degli occhi se tu dici che se mi fa male la testa e tu dici la testa io subito metto la mano sulla testa per dire Signore tocca la mia testa in modo che c'è la partecipazione dall'altra parte e così dico a te che sei a casa resta attenta attento mentre preghiamo insieme con Felix quando lo Spirito Santo guida Felix di dire quello che tu hai bisogno così noi siamo accordati nella preghiera tu che hai bisogno Felix che fa da portavoce e io che sostengo dall'altra parte per concentrarci tutti e tre il malato Felix che dice e io che prego così noi siamo uniti ci siamo accordati e su ogni punto restiamo accordati perché lo Spirito Santo opera già la prima cosa che ti chiedo a te che sei a casa cominciati a alzare per partecipare come per esempio quando si chiede in una chiesa di passare avanti per pregare tu passa già avanti nel senso che cominci a predisporre te stesso verso Dio ti muovi alzi la tua mano verso Dio per dire oh Signore io che sto soffrendo in questo momento Signore serviti di questa preghiera e così insieme siamo uniti dovunque ti trovi ti puoi trovare anche all'altra parte del globo lo Spirito Santo è lì per operare perché lo Spirito Santo che deve operare non è per forza né per potenza è lo Spirito Santo che ha creato l'universo che può creare anche un osso rotto che deve essere cambiato e può creare anche le pupille dei tuoi occhi se non hai gli occhi perciò noi ci affidiamo a lui mentre però è un'altra cosa devi fare devi parlare piano piano forte ma piano perché noi siamo anziani abbiamo bisogno di ascoltare la parola va bene amén me lo fai questo piacere che preghi piano piano lo faccio subito va bene allora ci uniamo insieme con te che sei a casa e tu vai io ti sostengo e ci sono anche altri che ti sostengono perché abbiamo migliaia di intercessori che in questo momento vogliono vedere i segni della gloria di Dio che si manifestano in lungo e in largo perché la scrittura come ho detto prima tu non c'eri dove viene predicata la parola la parola viene accompagnata da segni prodigi e miracoli e noi questo stiamo facendo stiamo predicando la parola così come Gesù ha detto siamo sintonizzati con il piano della volontà di Dio e quando noi facciamo la volontà di Dio Dio sprigiona il suo potere su coloro che alzano la loro fede verso di Lui esercitano la loro fede verso di Lui perciò tu che sei a casa esercita la fede comincia a muoverti mettiti in piedi o in ginocchio giusto per fare un modo diverso da come sei che non resti come un abbandonato a te stesso e se sei in un letto che non ti puoi alzare non puoi muovere almeno puoi muovere la mano alza la tua mano verso il Signore è tutto chiaro? è chiaro? è chiaro? vai avanti che il Signore opererà in un modo potente vedremo i grandi miracoli che questa sera il Signore fa alleluia se tu parli anche in lingue che mi segui dall'altra parte anche a casa ovunque tu ti trovi comincia a lasciare il tuo spirito pregare in lingue comincia a lasciarti entrare nella nuvola del Signore perché il tuo corpo seguirà il tuo corpo non avrà altra scelta che di seguire ciò che il tuo spirito avrà deciso qualunque sia la parte che è ammalata stasera voglio dirti che il tuo spirito può dare la locomotiva può camminare avanti può trovare anche se c'è da cambiare un pezzo tra virgolette del tuo organo perché ce ne sono in servo per te ci sono nuovi cuori insufficienza cardiaca cronica o problemi alle valvole io voglio commentare io voglio decretare metti la mano nel tuo cuore metti la mano nel tuo cuore e voglio che tu decida con me insieme a me di ricevere ciò che Cristo ha stabilito sin dalla fondazione del mondo ricevi la tua guarigione non importa da quanto tempo stai soffrendo da questa patologia cardiaca non importa se tu sei stato operato delle valvole perché io vedo Kama Soltanamashiki qualcuno con delle valvole meccaniche e queste valvole hanno anche avuto problemi e deve essere sottoposto a un rientra intervento chirurgico io ti voglio dire che non cambiare idea a te ma ti farà vedere da chi devi operare ma prima di fare operare chiedi di controllare di nuovo e nel nome di Gesù metti la mano e credi insieme a me che il miracolo di creazione avviene proprio ora nella tua vita io comando ma solo Mokia Massunto a nuove valvole di venire Kuma Soltanamashiki Massutanamakanta io vedo problemi cardiaci e questi problemi sono dovuti a fattori anche di depressione di problemi accumuli accumuli di problemi c'è stato il covid a casa tua e ne ha preso il pieno su di te è come se la tua vita era ferma è come se ti eri fermato ma adesso non riesci a ripartire non riesci a ripartire non riesci a ripartire e ti sei preso queste malattie io voglio dirti che non è finito non è la fine sorella fratello non è la fine non è la fine per te tu hai la guarigione disponibile non aspettare non aspettare altro che di stendere la tua mano alzati dove sei alzati cominci a camminare perché Cristo ti cambia ora l'hai assunto alla massata io vedo diabete 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 è una delle malattie più complicate più complicate per la sua cronicità ma io voglio dire a qualcuno voglio dire a qualcuno oggi che non c'è difficoltà per Dio di guarire il diabete come da un male di testa come da un male di denti non c'è nessuna differenza che sia ipertensione adesso sento molte malattie se ti ritrovi una di queste qua comincia a credere che perché Dio ti ha localizzato perché lo spirito ti ha localizzato tu riceverai la guarigione aspetta non aspettare seduta non essere passivo perché tu non prendi famaci in una posizione di passività tu non vai dal dottore essendo in una posizione di passività tu non cerchi il lavoro rimanendo passivo se tu vuoi essere guarito si nell'azione Gesù ha detto stendi la tua mano stendi la tua mano non la poteva stendere ma lui ha detto stendi io ti dico alzati prendi il tuo brancato cammina e così ti voglio dire oggi se c'è una patologia evocata fra quello che io dirò oggi fai quello che devi fare alzati e dichiara cammina alleluia muro canzante alla masiche questo qua è la potenza di Dio che è adatto alla sua chiesa io vedo ipertensione ipertensione arteriosa non so da quanto c'è ti hanno parlato di essenziale ipertensione familiare non mi interessa se i tuoi genitori l'hanno avuto non sei obbligato di beccarti pienamente questa malattia nel nome di Gesù io maledico sin dalla radice io maledico questa malattia tu non hai diritto di resistere nel corpo di mio fratello o di mia sorella stasera ipertensione vattene via ti comando allontanati da lei nel nome di Gesù da lui come assoluta la maschica ho visto anche cancri ok è la parola che ho sentito quando ho sentito anche diabete e ipertensione ci sono ci sono tumori 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 ci sono questi tumori che sono malini che sono cazzivi che ti vogliono portare nell'olcetomba io voglio dirti che tu non andrai nella tomba tu non morirai ripeti dopo di me io non morirò dillo con più convinzione io non morirò no non sei convinta un po' di più un po' più convinzione di così io non morirò e io proclamerò le bontà dell'eterno se tu vuoi proclamare le bontà dell'eterno fai vedere a Dio che non vuoi morire se tu sei lì passivo passiva è come se tu accetti la sentenza non importa lo stadio non stiamo parlando che perché è uno stadio complicato perché ci sono metastasi è più difficile non è non si tratta di medicina qua si tratta di spiritualità si tratta di capacità sopranaturale che Dio può fare per far sparire metastasi alle ossa si tratta di questo si tratta di darti un nuovo un nuovo cuore anche se tu avevi un melanoma una nuova pelle si tratta di darti qualcosa che non esisteva che ormai esisterà su di te in te come asciutta la massata io maledico questi tumori tumori all'ovai tumori alla prostata tumori al seno nel nome di Gesù ovunque tu ti sei localizzato tumori esci da questo corpo mentre mio fratello mia sorella si accoda insieme a me tu non hai diritto di stare non puoi stare perché la chiesa ha parlato perché il decreto è avvenuto perché il parlamento spirituale si è accordato come asciutta alla massata nessuno alla massata infatti ho parlato di mali a occhi sì glaucomi ma anche semplicemente problemi di vista abbiamo pregato con mia moglie per una bambina che aveva un grado 3 o 4 di occhiali abbiamo messo solo le mani soltanto le mani nient'altro nient'altro è stata guarita e non ha più messo occhiali qui da almeno 6 anni come asciutta la nascita e non è l'unico non è l'unico ma ti voglio dire che tu anche puoi essere guarito puoi essere guarita non importa la difficoltà che tu hai da leggere da lontano se tu vuoi essere guarito sarai guarito ci sono alcune persone che sono se gli piacciono la loro condizione di malattia gli piacciono mettere gli occhiali sì ti piace allora non hai bisogno di guarigione ma se tu hai bisogno di guarigione ti accodi insieme a me per nel nome di Gesù io maledico questa malattia miopia che sia qualunque natura che sia quella dell'anzianità io decreto che nel nome di Gesù tu sei guarito tu sei guarito adesso sento la depressione l'ho sentita anche prima l'ho sentita anche prima la depressione che viene su di te soprattutto una mamma ansiosa un'ansiosità che è diventata depressiva sì e ti nascondi prendendo degli ansiolitici come se Dio non ti vede Dio ti vede ma non ti vergognare perché non avevi altra soluzione nel nome di Gesù io voglio decretare su di te una liberazione ma non solta la mascita che tu sia liberata liberata da questi famaci anzi da questa depressione io decreto che nel nome di Gesù tu ricevi la tua liberazione 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 alleluia 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 problemi circolatori 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 alle gambe dolori fumicolii a volte legati anche al diabete io voglio decretare su di te fatelo sorella che tu sei guarito che tu sei guarita che tu sei guarita ci sono malattie che non possiamo neanche evocare perché sono complesse ma non importa che tipo di malattia è qualunque l'organo è ammalato è metti la mano sul tuo organo se sia la testa che sia qualunque forma di situazione hanno trovato su di te oppure la spala se tu hai dolori alla spala alle ginocchia alle caviglie alle mani metti solo la mano usati dell'altra mano imponiti la mano in questo momento e vogliamo decretare chiamare l'ulsione di guarigione su di te ma non sono una amacontale amasichi vogliamo decretare che tu sei guarito tu sei guarita ricevi la tua guarigione non aspettare una pubblicità diversa perché è tua ti appartiene è tua perché il Cristo l'ha pagato non la meriti ma Cristo l'ha meritato per te nel nome di Gesù ricevi la tua guarigione alleluia grazie a tutti